Drammatico impatto tra un'auto e un trattore sulla strada provinciale che collega Taurisano e Casarano in provincia di Lecce. L'incidente si è verificato poco prima delle 18 ed è costato la vita a Cosimo Carangelo, 48 anni, di Taurisano alla guida della sua Renault Modus. Sul posto i vigili del fuoco dei distaccamenti di Ugento e Gallipoli e gli operatori sanitari del 118 giunti dall'ospedale di Casarano. Per Carangelo non c'è stato nulla da fare, morto sul colpo, illeso l'uomo alla guida del mezzo agricolo. Il malcapitato viaggiava in compagnia dei suoi familiari, moglie e due figlie di 9 e 14 anni, tutti condotti in ospedale al Vito Fazzi di Lecce. La donna, anche lei 48enne, ha riportato un trauma facciale e varie ferite agli arti. Ferite meno gravi per le figlie. La strada è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia dagli agenti di polizia locale di Ugento e Taurisano per consentire i rilievi che sono stati eseguiti dagli agenti di polizia del commissariato di Taurisano al comando del vicequestore Salvatore Federico.